Mister Pazienza, una vittoria accarezzata fino all'ottantasettesimo. Sì, peccato, c'è tantissimo rammarico, tantissima rabbia per non averla chiusa e portata a casa e quindi purtroppo ci rimane solo un punto e chiaramente la prestazione che oggi i ragazzi hanno fornito nonostante poi è chiaro che ora in un momento di rabbia e di poca lucidità si giudica in base al risultato che per quello che è il nostro percorso non è del tutto positivo. Dobbiamo essere più cattivi e più determinati, anche se poi alla fine sono delle frasi fatte perché mancava davvero poco a portare a casa una vittoria meritatissima per quanto fatto sul campo e probabilmente il neo di questa partita è la pecca, come la si vuole chiamare, e non aver chiuso la partita prima, con le tantissime occasioni create anche nel secondo tempo. Ci servirà da lezione e ora andiamo avanti e cominceremo da domani a preparare la partita di Coppa di mercoledì. In questi casi è un bene il fatto che ci sia un impegno appena dopo anche per smaltire l'amarezza del risultato? Sì, chiaramente per smaltire la rabbia e l'amarezza è un bene che ci sia nell'immediato un'altra partita, anche se in questo momento avrei voluto recuperare più energie e più giocatori. Andiamo avanti, guardiamo avanti, consapevoli comunque di aver tirato fuori la prestazione che dovevamo fare, che dovevamo tirare e dobbiamo imparare dagli errori commessi. Quando parlo di errori non parlo di ingenuità, di cose fatte male, parlo di essere probabilmente più cinici, più cattivi sottoporta nel chiudere le partite. Però fa parte del calcio, è normale che alla fine hai giocato praticamente creando tantissimo e alla fine non sei riuscito a concretizzare quanto creato e il calcio ti becca quando fai così. Dal 65 in poi si è avuta la sensazione di un cerignolo un po' più basso, era una richiesta dalla panchina o anche una gestione di energia? No, non era una gestione di energia, era una scelta perché stavamo soffrendo la fisicità dei due attaccanti, perché loro continuavano a buttare palloni sulle due punte e quindi poi si infilavano con i centrocampisti. La scelta di aggiungere ancora un difensore era una scelta per aggiungere centimetri in quella zona del campo dove ci stavano creando dei problemi e che avevamo risolto con l'ingresso di Silletti. Peccato poi che alla fine il gol sia proprio arrivato da un piazzato, che erano un po' quelle situazioni che io temevo di più e che alla fine ci hanno condannato a un pareggio. Mister, lei due settimane fa dopo il 4-0 al Biceglie disse che non è tempo di guardare la classifica, è un monito che vale anche oggi? Assolutamente sì, non bisogna guardarla, bisogna lavorare testa bassa e cercare di migliorare quanto di buono fatto. Anche perché se si guarda oggi la classifica è chiaro che arriva il malumore, arriva la rabbia e sono tutti fattori che andrebbero poi a incidere nelle prossime partite, nelle prossime prestazioni e in questo momento non ce lo possiamo permettere. Dobbiamo, ripeto, come ho detto prima, stare uniti, compatti e lavorare. Grazie Grazie a tutti.